bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo videozzo sono infernal e oggi raga ho già il mal di cuore a dirlo siamo su outlast 2 la demo siamo pronti a cagarci addosso ma proprio cagarci addosso press x to start raga raga quel gioco qua ti fa cagare addosso visto qualche gameplay già sto male sto male solo a pensarci giuro no no è una cosa bisogna cagarsi addosso tantissimo quel gioco qua raga non sto scherzando ecco già guardate già la croce cosa fa guardate che già la croce cosa fa io sono su questa cosa su qua sono abbastanza amica che abbastanza sotto per dirvela tutta amica che abbastanza sotto raga veramente e quel giocato quanto qua moda tanto il mio caffè stelte merda verso anche gli occhiali bellissimo guarda vedo già il mar di cuore madonna magari eeeh provo a il volume a mettervelo a metà raga anzi lo tengo sparato perché almeno sentite anche voi quello che sento io ok almeno sentite anche voi quello che sento io vi date giusto un'idea ok ci siamo la nostra telecamerina che ha già visto l'outlast 1 io non l'ho mai giocato il primo outlast soltanto perché c'è la demo ci gioco eh ve lo dico per il che io non spendo un po' di soldi per un gioco simile perché io non mi voglio cagare addosso a giocare ma voglio divertirmi r1 per la telecamera r3 ok zoom ah così lo zoom così ok va bene adesso però voglio tirarla via grazie come faccio a correre raga x beh questo qua si sapeva per saltare mi sono perso chiusa raga oh 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 chi è che cazzo era cactus di merda no raga veramente cos'è una mucca no è una mucca chi è chi è chi è che cazzo è mamma aiuto che cazzo è che fa casino mamma raga i palchemi stanno sul cazzo veramente avete visto quello che è successo vero? si è chiuso la porta da sola come cazzo fai a aprirla? raga lì c'è la porta che mamma mia sto male figa giuro aprimela sta cazzo di porta no veramente come cazzo faccio ad aprire sta porta? move forward to open door slowly ma va te la piglia non apro un cazzo io come si faceva a attivare non mi ricordo ah si questa ok no 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 che cazzo ha la porta? no veramente ah ok chiusa adesso ho capito come aprire le porte e mo? come cazzo passa di qua io? ah vedi qua oh chi è? no oh dai veramente oh merda ma che cazzo è? no 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 veramente raga bambini morti no io lo metto perché non ci vedo un cazzo cavalluccio raga veramente chi è? bello premi quadrato per investigare nel pozzo premiamo? ma vaffanculo lo sapevo cazzo lo sapevo che si chiudeva col cazzo voglio bere il caffè perché la va mi chiedono di schiacciare L1 per guardarmi dietro l'ho fatto stai zitta negra ok che paura però a me non me ne è fottuna scega sinceramente cos'è che hai detto? dove sono? sono qua ecco gasta mi hai fatto cadere chi era? no raga fortuna che c'è la luce ho paura eh oh almeno qua almeno qua la croce è su bandiera dell'america raga buio pesto no mi sto cagando addosso giuro che mi sto cagando addosso accendi sta cazzo di roba non mi sto cagando addosso no no premi quadrato per suonare il box no raga mi sto cagando addosso giuro mi si apre anche il mio no no mi sta abbandonando la telecamera mamma che colpo raga giuro ho preso un colpo cos'è raga noi ci umuliamo qua veramente perché mi sono già cagato addosso troppo per questo video è tutto lasciate un bel like un commento iscrivetevi al canale condividetelo perché io mi sto cagando addosso sono nel mezzo del buio sento dei passi oh cos'è no 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 bella a i i a a a a a a Grazie per la visione!